Ciao a tutti ragazzi, bentornati con la ventiduesima puntata. Eravamo arrivate a Ellie e Riley che ballavano sopra questo vetro della gioielleria e arrivano gli infetti. Quindi adesso, vabbè, io so già che cosa si chiede, voi no, quindi andiamo avanti a scoprire che cosa sta per succedere adesso. Giusto, ero caduta dall'elicottero. Meglio che mi metto... Palesa c'è qualcuno, dai, palese. Cosa c'è qua? Ah, garzette. Un morto con una lettera. Ah, erano, mi sa, i tre, i quattro... Al migliore capitano del mondo, cento di questi giorni, Larry, Sean, buon compleanno e poi Larry's. Eh. Quindi immagino che questo sia uno degli ultimi che è morto. Quello sarà... Quello che ha amputato il braccio, poi quello che... Non mi ricordo. Comunque, insomma, l'ultimo che è morto. Dobbiamo saltare da questa parte, sicuramente. Ecco lì. Perfetto. Ah, ho scoperto come vincerò l'arco. Oh, merda! Ma che diavolo! Resta calmo. Che ci facciamo qui? Chi se ne frega di quel vecchio e della ragazzina? Sì, prima li troviamo, prima ce ne andiamo. Controlliamo che l'aria sia libera. Controllo questa zona. Cerca sul retro. Ok, allora. Con calma e sangue freddo. Merda. No. Sono passate sui vetri. Oddio. Oddio. Ok. Ferma lì. Perché lui è lì. Dov'è l'altro? Eccolo. Perfetto. Morto. Immediatamente. Niente, raga, quando si tratta di ammazzare... ...gli umani... ...con gli umani non mi impanico. E lo rimetto in sesto. Poi voglio andarmene da questo posto. Boh, vediamo se ci sono altre frecce. Eccola. Ah, già, infatti... Ah, ecco dove l'aveva trovato l'arco. Perché l'inverno, in The Last of Us parte 1, ora ho fatto tutti i collegamenti... L'inverno arriva... Devo fermare perché non riesco a fare due cose insieme, è incredibile. L'inverno arriva quando Joel, insomma, è ferito. E lei, la prima missione che fa con l'inverno è cacciare con l'arco. E ora ho capito come ha preso l'arco. Perché la missione dove caccia con l'arco è dopo questa qua, mi sa. Questa è nel mezzo. Ok, let's go. Qua siamo già andati? Sì. Qua non dobbiamo fare nulla. Cosa sono? Ah, lavandini. Eh, intanto, vediamo un po'. Qua riesco a crearne uno. Mamma, che lenta! Con Joel era velocissimo. Ok. Perché c'è del sangue? O no, comunque... Oddio. Guarda, lo so già che mi spavento. Lo so già. Mi spavento, 3, 2, 1... Da che parte? Io per certe... Allora, sento della gente lamentarsi. Forse devo semplicemente tornare... Ah, no. Forse è qua. Ecco. Ah, ecco. Spore. Sembrano. Oddio. Dai, li faccio ammazzare da questi. Così evito di... Questi li faccio ammazzare da... Ah, non li ammazzano? Ma no. Cioè, devo ammazzarli io? Anche gli infetti? Dai, ho... 4... Grazie al cielo siete arrivati. Cosa avete trovato? Shhh. Sono da per torto. Non li stanniamo. Copriteci. Ammazzateli voi, così io poi ammazzo voi. Dai, dai. Allora, sono tra. Allora, sono tra. Quindi sono sempre loro quattro, ok. Ragazzi, la caccia! Ok, vai! Merda. Non perderla! Pagherai per questo? Perfetto, morti. Dovrei aver finito qua con loro. Forse. Allora, proiettili. Ma figure. Quanti ce ne sono? Io, bella bella, tutta tranquilla, in realtà. Mai voltare le spalle al nemico. Vai! Ah, mio! Uè, 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 uè. Stavo dimenticando delle frecce. Ok. Qua siamo al massimo. Niente. Cos'era? Era un... Ah! È un negozio di NBA, mi sa. Mi sa che questo era un negozio di NBA. Allora, se ben ricordo, il fatto che mi abbiano dato le... le frecce significa che devo fare questa missione in silenzio. C'era quasi. Sì. Dovrò fare il giro. Deve fare il giro. Quindi da dove deve passare? Dove devo passare? No? Eh, ho capito. Arrampicati fino all'apertura. Ah, ok. Ah, ok. Sì, basta che non ci sono altri bug, eh, perché poi mi incazzo. C'è altra gente qua? Bene. No. Dove sono queste stronze ali? Ah, lì? Uno, due... Mercoledì. Cos'è stato? Eh, cos'è stato? È lì veramente lo vuoi sapere? Dove sono invece quelli? Che minchia. Che ansia. Che ansia. Ok. Giriamo la visuale perché io muoio, me lo sento. Qua non c'è nessuno. Raga, come la sto girando sta visuale? Uno, due... Ok. Eh, mi vedono. Palese. Qua giù! Merda. 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 Porca... Merda. Sono fottuta, raga. Sono fottuta. Completamente fottuta. Completamente fottuta, raga. Lei non è qui! Separatevi! La vedi? Qui lei non c'è! Porca merda! Ok. Ok. Uno fuori, fatto fuori. Non so come ce l'ho fatta, raga. L'altro è qua. E l'altro è là. E' andata! Porca merda! Uno fuori così. E l'altro è là. Perfetto. Perfetto. Allora, prima butto questo. Wow. Ah, deve essere lei. Niente. Perfetto. Sono veniti. Dio santo, Dio santo. Ho sudato tutte le mie... Le mie mani. Ok, dove sono gli altri che prendo i... Ho solo frecce, non mi danno nient'altro. Ok, una pistola. Sapete cosa ho sbagliato in questa missione? Avrei dovuto far ammazzare i... I cattivi a loro. I bloater lì, quei... Vabbè, i clicker, mi avete capito. E con calma me li ammazzavo. Cioè, ammazzavo poi gli umani. Invece, sono stata una deficiente. Qua ho sparato tutti i proiettili per... Per i clicker. Dove vado? Ah, ok, qua. Ok. Ok. Bene, ora cosa devo fare? Cosa devo fare ora? Andiamo un po'. Bene. Bene, devo semplicemente scendere ora. Ora arriva la parte finale. La parte finale è di quando lei prende... Ammazza tutti prima di tornare da Joel, credo. Oddio. Ok, quindi. Quello là. Lo prenderanno. E devo fare qualcosa. In fretta. Volete scappare? Ellie, devi fare qualcosa. Perfetto, meno uno. Merda, ora mi hanno scoperto, raga. Ora... Ora mi fanno fuori. Merda. Ok, la devo fare dei sottecchi, questo. Ho già capito. Vabbè a scappare! Pagherai per questo, stronzetta! Allora, dove sono? Ti accendo come un cerchio! Ma dove cazzo è, oh? Pagherai per questo! Non perderla! Dai. Ok. Nel negozio! Stanno arrivando. Stanno arrivando tutti gli altri. Merda, raga. Ok. Che cacchio fanno sti porci? Ok. È lì, devi fare qualcosa. Forzate la porta! La stagnerà! Figlio di puttana! Morto. È finita, Ellie. È finita, finalmente. Finalmente, Ellie, finalmente è finita. Adesso dov'è che dovevo andare? Già, forse devo fare proprio passare io. Dov'è quell'altro deficiente che ho ammazzato? Vabbè, i cadaveri ovviamente non... Oh, eccoli! Proprio quelli che mi servivano. Qua mi sa che c'è qualcuno, forse... Quanti ce ne sono? Dove sono? Merda. È arrivato Mirko il mio soccorso perché è una di quelle missioni che mi impanica e non riesco a fare... Eh, qua devi prendere le munizioni, devi prendere le munizioni. Attento, c'è qualcuno là! C'è qualcuno qua! Fa' attenzione! Ok! Come si cambia l'arma già? Così. Così. Tenta che non salga nessuno, eh! Guarda che sta salendo qualcuno! C'è qualcuno lì! Non perderla! Ehi, lei è qua giù! Ti accendo come un cerino! No, ci mette due ore! La testa, avvira la testa! Se avvira la testa risparmi i proiettili almeno! Allora, se tu da sopra spari quelle frecce ce la fai? Oddio! Oddio! Stanno arrivando i runner! Come mai? No, è troppo difficile! Pensa che è facile più questa missione! No, non ammazzare i runner! Ammazza... Cioè, si ammazza i runner! Bravissimo! Escapa, scapa! Escapa, scapa! Escapa! Escapa! Mi ha chiesto anche un proiettivo! Oh, è il fucile! Prendilo! Bravissimo, bravissimo! Proiettili, proiettili! Ricaricati l'arma! Oh, non è morto! Oh, non era ancora morto! Pensate, c'è ancora gente perché c'è ancora gente perché c'è... Ecco, vedi, c'è uno sotto! C'è uno sotto! C'è la musica, vedi? E basta! No, era troppo difficile per me! Guarda che questa qua, quando ho giocato la prima volta, me l'hai fatta sempre tu sta missione! Perché io non me la ricordo! Io non mi ricordo di averla fatta questa! Questa è la fine! Questa è la fine di Left Behind! Eh, adesso... Oh, attento, attento! In testa, in testa! Ecco, bravo! La musica è quasi terminata! Ora è finito il gioco! Non so se siete tutti morti, ma non vi conviene fare scherzi! Pratiti, pratiti! Finireste con me i vostri amici, mi avete sentito! Adesso, in teoria, questo è prima di arrivare da Joel, capito? Ecco... Prima di arrivare da Joel? Qua avevo preso dall'elicottero il kit di sopravvivenza per salvare Joel! Qua fai attenzione perché non so se c'è qualcuno, eh! Adesso c'è la parte con... Tu qua stavi giocato a questa cosa qua? Sì, ma non me lo ricordo! No, scappa, scappa con lei! Questo qua è quello che c'è anche nella serie! Sì, sì, certo! Questo è quando lei viene infettata! Questa è la parte in cui lei si infetta! Qui! Aiutami! Bene, tira su! Trova qualcosa per tenerla, io la reggo! Svelta! Allora io adesso qua non ricordo se l'era già stata morsa... Ah, devi fare più in fretta! Devi fare più in fretta, se questa non ha forza... Devi girare, devi girare il cassonetto! Vieni nervoso qua, minchia! Ok, vai! Sì, cosa è la cosa? Muoviamoci! Di qua! Ok! Oddio! Ok! Dai, dai, cazzo! Scappa, 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 scappa! Oddio, io sono dietro di te! Continua a correre! Vai! Oh, oh! No, no, no! E muori, testa di cazzo! Dai, oh! Ok, Ellie, possiamo andare! Ellie! Su per le scale! È la nostra via d'uscita! Oddio! Oh, Dio! Se le abbiamo anche dietro! Di qua! Vai, 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 vai! Oddio, mo! Sossegui! Dai, dai, Ellie, dai! Dai, dai! Dai, cavolo, che ansia che mi viene quando devo giocare a sto gioco! Ah, qua moriamo, ecco, mi ricordo. La mano! Ti aiuto! Oddio! 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 Oddio, oddio, ecco qua che mi mordono! No, no! Lasciami! Raimi! No! Presto! Alta tu! Ecco qua! Madonna! 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 Ecco qua! Credo fosse l'ultimo! Mamma mia! Ellie, il tuo braccio! Mamma mia! No! No, 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 no! No! È tornata indietro per salvarla l'amica, però, è stato carino. Tranquillo. L'ho fatta altre volte. Sono espertissima. Espertissima. Quasi. Poerina, le trema la mano. Non ti agitare. Cazzo! 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 Se vuoi, là c'è altra roba da spaccare. Cazzo! Che facciamo adesso? Io dico che abbiamo due opzioni. Opzione uno. Prendiamo la via più facile. È rapida e indolore. Ma a me non piace granché. Due. Lottiamo. Lottare per cosa? Ci trasformeremo comunque in due mostre. avremmo dovuto morire in mille modi prima d'ora. E potremmo farlo in mille altri prima di domani. Ma combattiamo. Per ogni secondo che ci resta da passare insieme. Che siano due minuti. O due giorni. non ci arrendiamo. Io non voglio arrendermi. Che facciamo? Aspettiamo e basta. Possiamo rendere tutto poetico e perdere la testa insieme. Non c'è l'opzione tre. Mi dispiace. Forza. Andiamocene da qui. No. Bellissimo. Ora posso dire di aver finalmente finito The Last of Us parte 1. Ora che ho giocato allo spin-off insomma. Bene ragazzi. Siamo arrivati alla fine di questo percorso insieme. Ci sono stati tanti urletti spaventati. Tante ansie. Tante mani sudate. Tanti pianti. E purtroppo voi non li avete visti perché io avevo già giocato. Quindi è difficile sempre ripiangere nello stesso punto. Ormai già sapevo e quindi avevo già metabolizzato la cosa. Niente. Io spero che questo video questa serie vi sia piaciuto. Se così fosse lasciato un like. Così magari potrei pensare di portare la seconda il secondo gioco. Stavo a partire la seconda stagione. E niente. Lasciate un like. Iscrivetevi al canale. Attivate la campanella e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Ciao ragazzi. Mirko Alice Game. Se il video ti è piaciuto lascia un commento e iscriviti al canale. la giornata la giornata e la coppia che scoppia sono come noi la vita di coppia vissuta da eroi la coppia che scoppia è un'esplosione Mirko e da Alice dentro il nostro cuore. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Grazie a tutti.